Amici di Marcosbox, benvenuti in questo 46esimo episodio del podcast di Marcosbox. Iniziamo questa settimana riallacciandoci a un argomento della scorsa settimana che è stato molto discusso e ribattuto ed è stata, la notizia è stata riportata anche dai media tradizionali, addirittura ne ha parlato i TG1. Mi riferisco alla decisione della Cina che entro il 2022 ha deciso che tutti i computer della pubblica amministrazione cinesi potranno utilizzare soltanto software sviluppati da aziende cinesi e quindi la scorsa settimana vi avevo parlato della, una delle alternative più gettonate che era Keyin, un sistema operativo sviluppato da una società chiamata Tianjin Keyin Information spero di aver pronunciato bene il nome. Questa settimana arriva una notizia che fa il palo a questa notizia che molto probabilmente lascia presagire che dietro questo accordo, di cui fra poco vi parlerò, ci sia la svolta del sistema operativo cinese basato su Linux. China Standard Software e Tianjin Keyin Information, come potete pronunciare voi, non so la pronuncia cinese, che cosa sono? Sono i due maggiori produttori di sistemi operativi cinesi. Hanno annunciato la decisione di unire le forze per sviluppare un nuovo sistema operativo destinato agli utenti domestici. Entrambe le società offrono già appunto soluzioni basate su Linux, China Standard Software e la software house dietro a Neo Keyin OS e Tianjin Keyin Information è quella che sviluppa Keyin, di cui vi avevo parlato la scorsa settimana. Ebbene, queste due società hanno dichiarato di voler costruire una nuova società, di cui diventeranno investitori, che si occuperà di sviluppare un nuovo sistema operativo e della sua diffusione all'interno del territorio cinese. Gli attuali sistemi operativi Keyin e Neo Keyin serviranno come base per il nuovo sistema operativo, quindi a detta di due verranno uniti e quindi in meglio verrà scelto in meglio per questo nuovo sistema operativo basato su Linux destinato agli utenti domestici. Che sia dunque questo il futuro sistema operativo cinese? Questa ipotesi è al momento la più probabile, perché specie se si considera che Neo Keyin è attualmente l'unico sistema operativo cinese a supportare tutte le serie principali CPU sviluppate in Cina, ovvero Fei Tang, Godson, Zhao Xin, Shen Wei, Hai Guang e Kung Peng. Spero di aver pronunciato bene i nomi in cinese, non ho affeso le mamme di nessun cinese con pronunce errate. Perché? Perché? Riaggacciandosi sempre alla notizia della settimana scorsa. La decisione della Cina è quella di non solo migrare verso software cinesi, ma anche verso componenti fabbricati da aziende cinesi, quindi sviluppate tutte in Cina. Questi sono i principali CPU che sono sviluppati in Cina, quindi molto probabilmente a questo punto la scelta ricadrà su questo nuovo sistema operativo che verrà adottato sia a livello governativo che anche verrà spinto il suo utilizzo anche all'interno della popolazione. E sappiamo bene che se c'è uno Stato in grado di fare una cosa del genere è proprio la Cina. Vedremo come si evolverà la cosa nelle prossime settimane, mesi e anni. Restiamo a parare di distribuzioni e parliamo del rilascio di Linux Mint 19.3 Trisha. Le ISO sono state rese disponibili per i download sia NeroStream Cinnamon che Mate che XFCE, sia a 32 che a 64 bit. Sapete bene quali sono le principali novità di questa nuova edizione. Praticamente si è scelto di fare un restyling della grafica, quindi è stato modificato il logo, sono state modificate alcune cose all'interno del sito, sono state fatte delle modifiche nel Tool System Report, nelle impostazioni per la lingua, è stato migliorato il supporto HDPI, c'è stato un cambio in corsa per quanto riguarda alcune applicazioni, c'è RUOID, è andato a sostituire XPlayer come player ultimediale predefinito, GNOTE è andato a sostituire Tomboy come applicazione per le note, e Drawing, che è una specie di Paint per Linux, è stata inserita come applicazione di default per l'editing di immagini, e quindi GIMP non viene più pre-installato, potete comunque installarlo quando volete. L'edizione principale arriva con Cinnamon 4.4, che offre alcuni miglioramenti nelle prestazioni, miglioramenti in Nemo, il File Manager, miglioramenti qua e là che ne migliorano l'usabilità generale. Altra grande novità di questa nuova versione di Linux Mint, comune a tutte e tre le varianti, è l'introduzione delle icone di Stato sviluppate in casa. Il supporto delle icone di Stato adesso viene supportato grazie all'introduzione di una soluzione chiamata X-App Status Icon, che appunto consente la gestione completa delle icone di Stato. Il plugin è stato reso disponibile sia per Cinnamon che per Mate che per X-FCE. A riguardo, l'edizione con Mate non porta grandi miglioramenti, a parte quelle già citate, comune a tutte le distribuzioni, la versione di Mate o Mate, come lo volete pronunciare voi, non ho mai capito la pronuncia esatta, che è presente su Linux Mint 19.3 e la 1.22. Per quanto riguarda invece l'edizione X-FCE presente su Linux Mint 19.3 e la 4.14, con tutte le novità e le ottimizzazioni che sono state introdotte da questa nuova versione di X-FCE, che ha visto la luce dopo tanti anni di sviluppo. Se volete aggiornare a Linux Mint 19.3, è stata già avviata la procedura di aggiornamento. Su macrosbox trovate un post che vi gusta come effettuare l'aggiornamento. Si tratta soltanto di lanciare Mint Update, di selezionare la voce per aggiornare a Linux Mint 19.3 e seguire le istruzioni. L'unica cosa che dovete fare, qualora vogliate adeguare anche il parco software, è quello di installare, a parte, celluloid, ginote, drawing e neofetch, che è stato anche aggiunto, è stato anche aggiunto all'installazione di Linux Mint 19.3. Quindi, comunque, su macrosbox trovate tutte quante le informazioni. Infine, una notizia che, più che informatica e di gossip, potrebbe essere anche, riguarda Vladimir Putin, il presidente della federazione russa, che, a quanto pare, utilizza ancora Windows XP sui computer, che utilizza per lavoro, sia presso il creminino, che presso la sua residenza ufficiale di Novo Gariovo, o Gariovo, come è caso, poi il russo è peggio del cinese, per me. Va bene. Che cosa è successo? È successo che il sito russo Open Media si è messo a sprucciare le foto, quelle ufficiali fornite dal sito Kremlin.ru, che sono, appunto, state pubblicate dal servizio stampa del creminino lo scorso autunno. Ebbene, che cosa ha notato? Che sia sul computer che è presente presso il creminino, sia nel computer che è presente presso la sua residenza privata, quindi nello studio e nella sua residenza privata, compare Windows XP. Quindi c'è un'installazione di Windows XP. Perché è questo? Perché è questo? Direte voi, Windows XP ha comunque smesso di essere supportato da Microsoft, infatti il supporto ufficiale è terminato ad aprile del 2014, poi ci sono state alcune parti di sicurezza per alcune gravi cose, però comunque è caputo il supporto. Ebbene, il motivo di questa scelta riserverebbe nel fatto che Windows XP è l'ultima versione di Windows ad essere certificata per l'utilizzo da parte di altri funzionali sui computer governativi. Windows 10, infatti, è stato certificato soltanto per l'uso per quelli che non contengono file seg con segreti di stato. Per questo motivo, ovviamente, il presidente Putin maneggia file compromettenti che comportano la presenza di segreti di stato e quindi di conseguenza non può avere Windows 10, ma deve affidarsi al caro vecchio Windows XP. E quindi, per questo motivo, non vedrete Windows 10 installato sui computer del presidente russo Vladimir Putin. Alcuni di voi diranno, potranno obiettare, ma perché non utilizza Linux? Beh, infatti, perché non utilizza Linux? Questa domanda se l'è posta anche Open Media. Sapete bene che attualmente in sviluppo un sistema operativo basato su Linux chiamato Astra Linux. Tra l'altro, è notizia dello scorso maggio di cui vi ho postato un articolo su Marcosbox che l'esercito russo ha annunciato la migrazione ad Astra Linux perché ha avuto questo sistema operativo, ha avuto la certificazione per essere utilizzato nell'ambito militare. Bene, interpellato da Open Media, il portavoce del presidente russo Dimitri Peskov non ha risposto alle domande su perché questo sistema operativo non sia ancora stato installato sui computer di Vladimir Putin. Quindi resta un mistero in questo caso sul perché non è stata fatta questa migrazione. molto probabilmente non è stato giudicato ancora pronto, non lo so. O magari, non lo so. Sono segreti di Stato. Non lo sapremo mai. Fatto sta che, appunto, Vladimir Putin utilizza Windows XP. Bene, con questo ho concluso. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Buone feste, buon Natale perché, visto la data di pubblicazione la settimana prossima il Natale cade di mercoledì. Quindi ci sentiamo molto probabilmente nelle settimane successive al Natale con la prossima puntata del podcast di Marcos Box. Quindi un augurio a tutti quanti. Passate un felice essere a Natale. Non mangiate troppo, mi raccomando. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci ascoltiamo nella prossima puntata del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!